A quella che abbiamo capito appunto da quello che ha detto ieri il Presidente esecutivo Cognigni, appunto, tu resti, ma quella di domani temi possa essere l'ultima parte di cambiola di quadrato? Il Presidente è stato votato, ci stiamo parlando, non è nascita esclusivamente sua, più mio. E quindi rispetto alla partita di domani non penso a quadrato, io penso alla partita di responsabilità tutti e ci teniamo a far bene, a onorare il nostro campionato, onorare anche la rispettibilità che ha questa società nella storia, non soltanto negli ultimi anni.